Darkry98, penso che è il fratello scemo di Darkry, se si può dire Supporto Volibear, vedi? Ve l'ho detto io che non è Una scima Dai trollalo Adesso è tardi però Uh, supporto Volibear quindi Prendiamo questo Che comp strana che abbiamo, vero? Ah ma questo è quello che gioca Ziggs, solo Ziggs, fantastico Ziggs Quindi Volibear bot Insieme a Rengara di Carry Promette benissimo E Ziggs, mid lane, car to stop Ammazza che draft che abbiamo ragazzi Vabbè comunque insomma dipende Ma la nostra draft è tipo la draft più patetica che abbiamo visto penso Cioè non so se mi hai visto una draft così brutta in vita mia È incredibile ragazzi, siamo riusciti ad avere la draft peggiore dell'anno Siamo 4 jungler, car to slissin, Volibear, Rengar Sì, Broker roll, hai visto? Ha preso il sopravvento sull'lane Adesso i jungler si giocano Su tutte le corsie Dai bait Wait, vediamo se funziona Accorre il tryout verso le 2.30 credo Dai provaci Provaci, Bro Vabbè mai visto un trundle giocare così safe Allora bottele non abbiamo praio Mid lane ce l'abbiamo ma non è che sia chissà quale praio Devo andare immediatamente via Non è che mi parebbe jumpare capo Cioè, chi è che ha spregato il flash? Chi è il cringino che ha spregato il flash? Io la chi l'avevo presente è già fatta Visto che non sono andato oltre il muro Sono stato furbo ad aspettare, no? Bravo me Quindi top lane è morto Bot lane è morta Jungle gap Jungle fucking gap Cartus sapeva Del loro jungle top Ma cosa ha deciso di fare? Niente Di morire Questa ha deciso di fare schifo Guarda, gli lascia anche la wave così Anche se non se la meritano molto Allora Allora, allora, allora E... Datemi un secondo ragazzi Dobbiamo vedere dove cancare 20 secondi a red Purtroppo sto un po' laggando Ma credo di sapere come fixare Spero almeno Ok Ari no flash No ignite No ulti Gli avversari sono al draghetto Potremmo andare a contestare Se Ziggs si spostasse A Ziggs non sembra molto Intenzionato a spostarsi Oioioi Vabbè, la finale che l'abbiamo presa Comunque Da lì Da era giusta Magari in questo caso L'animazione un po' Io sto molto laggando Ragazzi Devo fixare assolutamente Stavola Eh, sì Un ragazzo italiano Credo Darkry 98 Abbastanza sicuro Il support Volibear È normale Forziamo la torretta Ma Com'è Milden Tutto a posto Agli rengarone Sì Let's go team Let's go Benissimo Draghetto Sarebbe l'errore Da invadere Ma facciamoci fare Facciamoci la mia giungla E poi regoliamo Dai basta Ok Andiamo a fare anche l'errore Abbiamo preso Eh Karim Abbiamo preso Potrei mettere Era al mid Con Ziggs La torre Va di fretta Che dite ragazzi Ci conviene Volevo prendere anche Volo dietro Veramente Ma un po' di rispetto Per l'amore del cielo Ok Non male Abbiamo preso anche Per aiutarla Tanto Ve la passiva Quindi anche se muore Poi fa danno Le squad Le squad Ziggs Vado a prendere red buff E poi resetto un attimino Prendo GA Prendo Si preserviamo Il QDI Prendere anche se muore Prendere anche se muore Però devo hitare la QDI Dopo la GA Ok Ho fatto abbastanza schifo Alla fine Abbiamo rimediato Cartus riesce a sparare L'R B2match Peccato Sono stato greedy Decisamente greedy Però dai Uno è morto Il Baron Derebbero poterlo fare Quindi ok Alla fine Certo lo shutdown Va bene Va bene Potevo aspettare Se avessi avuto l'ultri card Sarei vinto Quel fight Credo Abbastanza sicuro Ok Ok Ziggs Popping off No Dodge Quanto rapido Quel coso Wtf Scusi Signor Cavallo Beh Dici mi sa Ah Sto laggando Basta laggare Ti do un calcio Nel muso Kaiza Sta zitta Allora GG 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 Non era facile la carriera Questa Devo dire Con i teammates che avevamo Se non era difficile Però ce l'abbiamo fatta Nice Hasblog Ti do un como Will SNAR algorithms H G Quint Ultr L ов CP L L